Buonasera a tutti e a tutte. In primo luogo desidero ringraziare il professor Marco Piazza per avermi invitato a questo convegno e anche tutti gli organizzatori del convegno stesso. Io presenterò un contributo dal titolo tra parola e immagine, la teoria proustiana della metafora conoscitiva e mi scuso con i colleghi francesi, io mi scuso a proposito dei colleghi francesi di non avere la possibilità di traduire un texte. Io li lierei in italiano, ma mi mostrerò sì, le citazioni di Proust dalla versione originale francese. Qui vedete una serie di testi che in qualche modo costituiscono i riferimenti contemporanei di concezione e teorie che Proust ha contribuito a elaborare e a consegnare alla riflessione del Novecento. In uno scritto del 1978, Filippo Minghe ricorre a una pagina di John Ruskin per chiarire il tema annunciato dal titolo Metafore della pittura, pittura della metafora. Si tratta della pagina in cui Ruskin, utilizzando una serie di metafore, cerca di descrivere la nuova immagine del mare che emerge dalla pittura di Turner. Ma questa immagine a sua volta appare caratterizzata da una potenza metamorfica che trasforma l'onda del mare in un guanto di ferro, in una colonna di marmo, in un vello bianco, eccetera. In altri termini, la metafora della pittura sembra rovesciarsi in una pittura della metafora, nella possibilità che il pittore utilizzi, al pari dello scrittore, il percorso obliquo di una figura retorica. Il testo di Minghe si inserisce in un filone di ricerche che, a partire dagli anni Settanta del Novecento, ha impegnato varie categorie di studiosi, dai filosofi agli scienziati cognitivi, dagli storici dell'arte agli psicologi, dai linguisti ai semiologi. Ancora prima dell'affermarsi del pictorial o iconic tarn, l'importanza accordata alle metafore visive trova la sua principale legittimazione in svariate prospettive teoriche. Per esempio, la nuova retorica di ispirazione strutturalista, ben esemplificata dai lavori del cosiddetto Group Me, nel quale rientra lo stesso Minghe, e poi la nascita della semiottica visiva, che hanno contribuito tanto alla semiottica interpretativa di Eco quanto alla semiottica generativa di Greymas. Gli sviluppi di teorie di matrice fenomenologica, come quella di Paul Ricoeur, che hanno tematizzato la potenza visiva della metafora e il ruolo giocatovi dall'immaginazione. Ma anche la concezione cognitivista del linguaggio, che ha fatto del verbale un sottoinsieme del più ampio sistema concettuale, e nello specifico la teoria della metafora concettuale, elaborata da George Lakoff e Mark Johnson. In tale contesto, la questione delle metafore visive si è costantemente intrecciata con il problema delle relazioni tra parole e immagine. Ora estendendo all'ambito del visivo i principi di una retorica generale, ora rovesciando l'idea di un metalinguaggio ricavabile esclusivamente dal linguaggio verbale, ora assondando l'interdipendenza del visivo e del verbale, tali prospettive hanno scorto nella metafora un caso limite della ricorsività che lega il figurare tramite parole e il dire tramite immagini. Nel testo di cui abbiamo parlato più sopra Minghe, subito dopo aver citato Raskin, osservava. Forse questa pagina del critico inglese si nasconde nell'interpesto della pagina molto più nota, in cui Proust, parlando di Elstir, ancora con una metafora, ci assicura che se Dio padre aveva creato le cose dando loro un nome e Stirli ricreava togliendoglielo o dandogliene un altro. Noi siamo d'accordo con Minghe, pensiamo effettivamente che questa pagina di Raskin possa aver ispirato Proust. Tra l'altro ricordiamo che la citazione di Minghe è dalla raccolta a opera per l'appunto Robert de la Ciserane, raccolta che si titola Page Choisy de Raskin, quindi sicuramente è un testo che Proust conosceva, che aveva. Quindi siamo d'accordo con Minghe, però vorremmo spostare l'attenzione piuttosto sulla possibilità di ritrovare in Proust delle anticipazioni della riflessione condotta oggi, quindi non solo genericamente nel novecento, ma anticipazioni della riflessione condotta proprio oggi, adesso, in questi anni, sia sul valore conoscitivo della metafora in generale, sia sul significato delle metafore visive e sul carattere icastico delle stesse metafore verbali. Riteniamo che Proust su questi aspetti non solo abbia anticipato genericamente la riflessione del novecento, ma abbia anticipato anche molti aspetti di quella che oggi fa sotto il nome di teoria concettuale della metafora, o anche aspetti della riflessione che Paul Ricoeur ha dedicato al tema della metafora viva, come vedremo poi nel proseguo dell'intervento. Partiamo da una citazione molto famosa, un passo famosissimo del ton retrouvé, dove Proust ci parla della metafora e qui in questa citazione balza subito all'occhio che Proust è interessato alla metafora non in quanto specifico troppo, distinto dalla metonimia e da altre figure retoriche, bensì in quanto più ampio dispositivo capace di mettere in relazione due elementi diversi, individuando fra di essi analogie non scorte in precedenza. A suo parere la metafora è uno strumento sia del pensiero che del linguaggio, non mette in relazione solo due termini, ma anche i campi semantici e concettuali che vi sono associati. Di conseguenza la metafora non è il semplice sostituto di un termine letterale, ma fornisce un contributo cruciale alla conoscenza del mondo, visto che non abbiamo accesso alla verità finché non apprendiamo a conoscere una cosa attraverso un'altra. Tale concezione è presente sin dalle prime versioni di questo passo, come possiamo vedere anche da quest'altra slide. In un frammento del Cahier 28 risalente all'inizio del 1910, Proust scrive La metafora non esercita né una funzione cosmetica ornamentale, né una funzione puramente didascalica, non si limita né ad abbellire né a chiarire il discorso. Del resto, in una lettera a Maurice Dupley del giugno 1907, Proust valorizza l'immagine, cioè la figura retorica in quanto tale, asserendo che essa doit avoir ses raisons d'être en elle même. E, in tal senso, Proust critica la tendenza a considerare l'immagine come la servante purement pratique et utilitaire du raisonnement, pareille à ses plans en relief qui serve a mieux faire comprendre ou s'éleve un leçon. Tuttavia, in questi testi, così come in altri frammenti dei Cahier scritti in preparazione del romanzo, Proust non approfondisce il funzionamento, cioè il modus operandi della metafora. L'analisi più dettagliata delle procedure metaforiche emerge in un altro contesto, vale a dire nell'episodio di «A l'ombra des jeunes filles en fleurs», dedicato all'incontro del narratore con la pittura di Elstir, un artista immaginario che è difficile ricondurre la figura di un artista reale, benché Proust si sia ispirato a diversi modelli, per esempio a Manet, Monet, Renoir, Turner, Chardin e altri, per descriverne il personaggio e l'opera. Buona parte di tal episodio ruota attorno alla minuziosa descrizione di un quadro immaginario di Elstir, «Le porre de Carquetuil». Nelle opere giovanili, Proust aveva spesso descritto opere d'arte reali, utilizzando un procedimento stilistico che potremmo avvicinare a quello dell'ecfrasis. Generalmente, ricorso a un procedimento ecfrastico, si motiva per il tentativo di coniugare visualità e scrittura, di imitare la pittura per permettere al lettore di raffigurarsi, di immaginarsi ciò che le parole dicono. Tuttavia, nella rappresentazione letteraria del porre de Carquetuil, sembra prevalere l'esigenza di chiarire la natura dei processi metaforici e il significato che essi assumono nella peculiare conoscenza promossa da romanzo. Dunque, una prima domanda che potremmo porci è la seguente. Perché Proust affida la pittura, il compito di illustrare il funzionamento della metafora in generale e della stessa metafora letteraria? Per tentare di rispondere a questa domanda, esaminiamo il brano che precede la descrizione del porre de Carquetuil. Ed è questo. Avevo mandato avanti troppo la presentazione in PowerPoint. Vedete, qui abbiamo la celebre citazione in cui Proust arriva a definire il procedimento metaforico facendo riferimento a un procedimento pittorico, in cui in qualche modo si istituisce una ricorsività tra questo modo di rappresentare la realtà, questa metamorfosi delle cose rappresentate a livello visivo con una metamorfosi dei nomi, quindi a livello linguistico. Sicuramente, anche in questo caso, anche in questa citazione, siamo lontani dalla concezione tradizionale della metafora. Non troviamo alcun riferimento al problema della comparazione tra due termini diversi né alla necessità che questo rapporto si è istituito in base a qualche affinità o somigliante. Prendo uno spicco, invece, altri tre temi. La metamorfosi nel modo di vedere e rappresentare le cose, la metamorfosi nel modo di nominarle e la nuova creazione del mondo in cui si traduce questa duplice metamorfosi. Diciamo per inciso che, nell'equivalenza tra metamorfosi visiva, che in quanto tale appartiene al dominio della pittura e metafora letteraria, risuona il topus del paragone tra poesia e pittura, sancito nell'antichità dal celebre detto di Simone di Liceo, la pittura è una poesia muta e la poesia è una pittura parlante, un topus che sarà ripreso dalla fortunata formula di Orazio Pittura Poesis, come nella pittura così nella poesia, per diventare da rinoscimento in poi un motivo ricorrente del dibattito teorico che segna la storia della critica letteraria e artistica. Ma l'equivalenza proposta da Proust implica una più ampia riflessione sui rapporti tra parola e immagine, i rapporti che sarebbero la base del potere tanto euristico quanto creativo della metafora. In che senso? Allora, in primo luogo va notata la complessa tensione che lega il verbale e il visivo. Da un lato la pittura della metafora sembra enfatizzare quella dimensione icastica alla quale allude già Aristotele quando afferma che l'espressione metaforica ha la capacità di far vedere il discorso, di porre sotto gli occhi cose e relazioni. Dall'altro lato le metafore presenti nei quadri di Estil hanno un valore semantico, cioè sono immagini che funzionano come parole, intrecciando una nuova visione delle cose con un cambiamento dei loro nomi. Si stabilisce quindi una sorta di ricorsività, come il problema della visione non riguarda solo il pittore, così il problema del linguaggio non riguarda solo lo scrittore. Come non può esserci stile senza visione, così la visione non può articolarsi al di fuori di un linguaggio. La mediazione della pittura nel cammino verso la letteratura fa sì che le metafore letterarie si caratterizzino per una duplice natura, verbale e visiva. In una metafora letteraria l'immagine non è un dispositivo secondario accessorio, sottoposto al primato del linguaggio verbale, bensì appare immanente alla parola stessa. In secondo luogo è proprio l'interdipendenza tra verbale e visivo a giustificare il potere euristico-conoscitivo della metafora. I nomi che vanno eliminati o sostituiti non sono solo le espressioni letterali, ma anche le categorie astratte e convenzionali in cui rigidiamo la realtà, le barriere precostituite che interponiamo tra le cose per ricondurle a definizioni fisse e univoche. Sotto tale profilo la metafora si contrappone non tanto all'intelligenza in sé quanto al prevalere di una ragione strumentale che svaluta le conoscenze apportate dai processi sensoriali e percettivi. E come notiamo da quest'altra citazione che segue quella immediatamente precedente. Ecco, da questa citazione comprendiamo che la nuova visione del mondo promossa dalla metafora esige un ritorno come dice Proust alla racine même de l'impression cioè a quello stato di indeterminatezza, di instabilità percettiva che precede il frazionamento della realtà in compartimenti stagni. Segnaliamo che le impressioni originarie di cui parla Proust non si caratterizzano affatto per la loro oggettività. Lungi dal costituire una replica esatta della realtà fisica esse corrispondono a quelle illusioni ottiche che ci fanno scambiare qualcosa per qualcos'altro. Ad esempio un tratto di muro per una lunga strada una parte più scura del mare per una costa lontana eccetera. Le illusioni ottiche ricreate dalla pittura di Estir hanno precisamente questa funzione sovvertire l'immagine stereotipata delle cose per recuperare la dimensione originaria dell'esperienza e pensare la forma stessa come relazione e metamorfosi. E qui abbiamo in effetti una singolare analogia con le tesi di ispirazione cognitivista che permeano il dibattito odierno perché appunto in singolare analogia con queste tesi di Proust scorge nella metafora una sorta di ponte tra percezione ed elaborazione linguistico-concettuale. Il cambiamento di nomi operato da Estir va letto anche in tale direzione cioè come il tentativo di gettare luce sulla natura delle associazioni cross-sensoriali di trovare un luogo di mediazione tra il livello percettivo l'immaginazione nella memoria e il linguaggio verbale. Così inteso il cambiamento di nomi assume una funzione preliminare nel processo metaforico dando luogo a una modalità operativa che potremmo definire la pars d'instruence della metafora di cui la pittura di Estir ci offre l'esempio più illuminante come appunto dichiara lo stesso Proust quando insiste sul fatto che una delle metafore più frequenti nelle marine di Estir consiste proprio nel sopprimere ogni linea di demarcazione tra la terra e il mare quindi nell'istituire un confronto tra la terra e il mare sopprimendo però ogni ogni linea di demarcazione questo cosa vuol dire? Vuol dire che nella sua rappresentazione del porto di Carquetui Estir prepara lo spirito dello spettatore impiegando per la piccola città dei termini marini e invece impiegando solo dei termini urbani per il mare proprio attraverso un sapiente gioco di illusioni prospettiche gli edifici fanno uscire dalle acque ed essere immersi come battelli appunto dentro un pulviscolo di sole e di onde mentre la linea frastagliata disegnata dal mare addentrandosi spesso nella terraferma induce a scambiare gli alberi delle navi per campanili o comignoli e le flottiglie da pesca rimaste sul molo per improvvisate piazzette dove gli uomini possono incontrarsi e discorrere e appunto allo stesso modo Estir descriverà più tardi le feste veneziane dipinte da un veronesio e da un carpaccio le quali immerse in un'aria resa liquida dalle esalazioni del mare creano un analogo effetto di spaisamento e si insiste sul fatto che non si sapeva più appunto dove finiva la terra dove cominciava l'acqua che cosa fosse se si trovava di fronte a un palazzo piuttosto a una nave quindi ciò che viene sottolineato è proprio il venir meno di ogni frontiera fissa tra la terra e il mare perché proprio l'abolizione di ogni frontiera fissa tra la terra e il mare delinea una peculiare strategia di interazione basata sul reciproco scambio di attributi Proust individua qui un aspetto che secondo le teorie di Erne sarebbe peculiare delle metafore visive le metafore verbali possiedono sempre una certa direzionalità in quanto l'esistenza di regole grammaticali e sintattiche permette di distinguere in un'espressione del tipo l'uomo e un lupo l'entità in funzione di metaforizzato l'uomo in questo caso dall'entità in funzione di metaforizzante in questo caso il lupo al contrario le metafore visive nelle quali non esiste a priori una marca di identità del tipo A e B sono spesso reversibili guardando il port de Carquetuille potremmo concludere sia che la terra è un mare compatto sia che il mare è una terra liquida Proust però sembra generalizzare questo aspetto tipico delle metafore visive estendendolo ogni tipo di metafora quindi potenzialmente anche alle metafore verbali in effetti questo aspetto contribuisce ad accentuare il ruolo destabilizzante della metafora la sua capacità di disarticolare l'ordine semantico concettuale presistente parlando di una cosa nei termini di un'altra la metafora opera una trasgressione categoriale non si limita cioè a disegnare qualcosa in maniera insolita ma violando la legge di pertinenza semantica per la quale un certo predicato conviene soltanto agli individui compreso in una certa categoria sospende i modi convenzionali di classificare le cose e fa scaturire nuove reti di rapporti che producono a loro volta nuovi significati ma per fare tutto questo la metafora deve essere a un tempo modo di vedere e modo di nominare deve funzionare come un modello innescando una sorta di riorientamento gestaltico della realtà percepita veniamo così al potere creativo della metafora risolvendo i confini che separano la parola e l'immagine la metafora estende i limiti del concetto e del linguaggio attraverso l'immagine la trasgressione categoriale acquista un senso perché il vedere come istituisce una prossimità semantica tra il metaforizzante e il metaforizzato a dispetto della loro distanza nella metafora l'immagine mette in movimento rivitalizza il linguaggio fondendo insieme valore euristico e potere creativo ciò vale in particolare per le metafore letterarie che come osserverà un attento lettore di Proust come Paul Ricoeur sono per eccellenza metafore vive cioè originali e creative ecco va detto che nel volume intitolato la metafora viva Ricoeur non cita mai Proust però poi cita ampiamente Proust in tempo e racconto e mostra di conoscerlo molto bene e in effetti ci sono delle pagine della metafora viva che sembrano in qualche modo ispirate da Proust e proprio sono le pagine di cui ci stiamo occupando adesso ecco e quindi potremmo dire in qualche modo parafrasando Mingue che sembra di esserci una sorta di intertesto un po' sommerso ecco a volte nella metafora viva appunto di Ricoeur e questo testo sommerso è Proust ecco non dico solo Proust ma anche Proust perché effettivamente in Proust ma poi sarà così anche in Ricoeur la centralità stilistica della metafora dipende dalla sua capacità di incarnare quella funzione poetica del linguaggio in assenza del quale non vi è autentica letteratura appunto come scrive Proust in una lettera a Madame Strauss del novembre 1908 chaque écrivene è obbligé di se faire son son les écrivene ne commencent a écrire bien qu'à condizione d'être originaux de se faire eux-mêmes leur langue lo stile metaforico assume una portata referenziale quindi ci parla della realtà nella misura in cui non si propone di descrivere pedissequamente la realtà quella sfilata cinematografica che Proust critica nel tempo ritrovato quello stile preteso realistico che secondo Proust non ci porta a conoscere davvero la realtà quindi dicevamo lo stile metaforico assume una portata referenziale nella misura in cui non si propone di descrivere la realtà ma piuttosto di ricrearla incessantemente rivelando una verità inseparabile dalla contraddizione e inseparabile anche da una continua tensione tra identità e differenza la metafora esibisce così il tipo di verità a cui tende la conoscenza letteraria una verità che non è né un dato oggettivo né una costruzione puramente soggettiva ma piuttosto il punto d'incontro tra un soggetto che si apre al mondo e un oggetto che si espande fino a includere in sé anche i significati che il soggetto gli attribuisce il compito della letteratura non è di dissociare il segno dall'oggetto sensibile bensì di mostrarne la mutua implicazione benché lo scrittore debba convertire le proprie sensazioni in equivalenti spirituali come li definisce Proust cioè in concetti e segni linguistici la verità letteraria è tracciata con l'ausilio di figure di immagini una nube un campanile un fiore un sasso che hanno attratto lo sguardo dello scrittore sollecitandono accoglierne il senso niente più della metafora esemplifica dunque quel sapere figurale ai confini tra filosofia e letteratura che costituisce uno fra i lasciti forse più preziosi della teoria proustiana dell'arte e della conoscenza ecco e a questo proposito sicuramente il il diciamo discorso della metafora apre no anche questa questa capacità di aprire diciamo una ricca serie di temi no che appunto spaziano dal tema della appunto della verità della ricerca dell'essenza il rapporto tra generale e individuale il problema della memoria del tempo è come se effettivamente fosse un tessuto connettivo che collega anche vari temi teorici appunto della ricerca del tempo perduto e quindi sicuramente è un discorso che apre tanti altri discorsi però in questo momento il nostro discorso si ferma qui io vi ringrazio per l'attenzione vi ringrazio per la possibilità che mi avete dato di poter partecipare a questo convegno anche essendo appunto a distanza e vi auguro appunto a tutti una buona serata grazie